Perchè Pirlo che è stato il migliore in campo, per quale motivo, per quale motivo, non fatevi del male, non fatevi del male. Siete, sai chi ha bocciato lui? Andrea Pirlo, Pirlo Andrea. Ascolta, ascolta, inquadratelo bene. Dove? Sei qui, ma secondo te la puoi fare a trovare la caccia. Ne vedo uno. Ascolta, ti ho spiegato, ti ho spiegato, e ho messo, guarda che fai delle smorfie. Te calmo, ti ho spiegato, Pirlo l'ho messo tra i bocciati io, ti fidi di me? Ti fidi di me? Ti fidi di me? L'ho messo tra i bocciati, te calmo, perché quell'errore? Non parli male. Giù! 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 Calmo che stai male! Non si può mettere tra i bocciati! L'ho messo io! Va bene? Ti fidi di me? Ti fidi di me? Ti fidi di me? Mi fido, ma sono per queste volte! Giù! 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 Giù!